Oggi è una giornata straordinaria, un'emozione unica vedere i ragazzi, i ragazzi che finalmente entrano in possesso del loro edificio, della loro scuola, insieme ai loro insegnanti e a tutto il corpo docenti. È un qualcosa di straordinario, è un percorso che è stato effettivamente molto sofferto e io credo che sia un riscatto per questa che è l'area collinare che nel tempo ha sempre un po' subito un po' di carenza di una serie di servizi, quindi è la nostra grande scommessa e un primo passo importante raggiunto dall'amministrazione comunale e municipale. Sono scuole che sono state realizzate ex novo completamente dal nostro servizio tecnico e rappresentano veramente una risposta delle necessità e dei bisogni realmente esistenti sul territorio. I bambini erano collocati in spazi inadatti a realizzare delle attività educative e quindi questa scuola è stata pensata e disegnata per loro. Penso che questo inizio di anno scolastico sia particolarmente importante e significativo e dia anche il senso dell'impegno delle istituzioni per i territori e per le comunità. È la fine di un percorso complesso e faticoso durato 30 anni nel quale si sono dovuti affrontare numerose problematiche, ma oggi la soddisfazione sui volti di bambini e genitori, di maestre e dell'intera comunità scolastica ripaga ogni sforzo. Questa mattina sono stati inaugurati i plessi di nuova costruzione Musto, scuola media statale, e Fedro, scuola comunale dell'infanzia ex Verne. Rappresentano la concreta dimostrazione di una sinergia virtuosa interistituzionale tra Comune di Napoli, Quinta Municipalità, Regione Campania. Di questo, a nome dell'Istituto Comprensivo, esprimo sinceri e vivi ringraziamenti per le iniziative promosse che hanno consentito il raggiungimento di questo traguardo importantissimo. Durante la cerimonia è stata ricordata in maniera particolarmente sentita l'opera e la figura della vice sindaco prematuramente scomparsa, Maria Filippone, che si è prodigata molto anche per questo risultato. Proprio alla sua memoria, quindi, è stata dedicata la targa commemorativa da parte dell'amministrazione comunale e municipale. È un'occasione storica, finalmente si aprono questi due plessi che erano bloccati da anni. Mia Filippone, quando si è insediata, uno dei primi sovralluoghi, uno dei primi atti che ha fatto come assessore, è stato quello di venire a visitare questa scuola e avviare tutte le procedure che ci hanno consentito in un anno di aprirla. Un impegno assunto da mia e quindi oggi noi inauguriamo questi due plessi proprio in sua memoria, testimoniando come quando c'è una collaborazione istituzionale, ci sono idee chiare e si opera nell'interesse dei cittadini con molti fatti e senza parole, alla fine si ottengono risultati che poi sono quelli che noi vogliamo. Noi cerchiamo di essere un'aggiunta dei fatti ed evitare che cose che si trascinano da decenni restino sempre così. E nei giardini dell'area esterna è stato anche piantumato un ulivo, simbolico messaggio di pace donato dall'associazione Gazebo Verde. Siamo praticamente sbloccati, in alcuni casi abbiamo già finito e questo si vede tutti i cantieri che erano già aperti, con situazioni che spesso erano ferme veramente da anni. Siamo intervenuti su una serie di disservizi, pensiamo alle case dei custodi occupate, a situazioni anche in quartieri difficili dove c'erano situazioni di legalità molto ampie. Adesso abbiamo risorse, abbiamo presentato molti progetti sul PNRR, abbiamo ricevuto risorse importanti. Non c'è ancora il decreto attuativo del governo, però lo astendiamo a giorni. Questo significa che nei prossimi mesi noi potremo fare interventi di ristrutturazione su molte scuole a Napoli, poi c'è anche un intervento in parallelo della città metropolitana, abbiamo fatto investimenti significativi sulle scuole secondarie, quindi cercheremo di dare una scuola dignitosa e sicura a tutti gli studenti napoletani.